Cari lettori di Psicologia Contemporanea, oggi un ospite di cui sono veramente molto contento e orgoglioso, John Peter Sloan in occasione della presentazione del suo libro Real Life English, impara l'inglese che si parla davvero. E c'è anche mio figlio sulla copertina. Questo è una grande immagine, con l'orecchino vedo qui anche John. Con l'orecchino, l'ha photoshopato. Senti impara l'inglese che si parla davvero perché c'è un inglese che si parla per finta? No, è che tutti i corsi che esistono, anche i miei perché sono anche cascato un po' su queste cose, sono l'inglese formale. E mi sono reso conto di questo perché, vabbè, un esempio would you like, lo insegnavo anch'io, would you like per vorresti, però mi rendo conto che non dico mai would you like, perché è formale e io non sono mai nel contesto formale. C'è chi poi lavorando si trova nel contesto formale e va bene would you like, però il 90% dell'inglese è informale. E il lavoro diventa sempre più informale. Prima domanda, visto che il nostro pubblico è fatto da appassionati di psicologia, autosviluppo, crescita personale, tu che rapporto hai con la psicologia? Quando ho detto a mia mamma che mi ha chiamato e ho detto vai a Milano, come mai? Ho incontrato il mio amico psicologo e lei ha detto, ah, meno male John. Vedi, ti ho detto io che prima o poi. È arrivato un momento. Sì. A me fa paura la psicologia. Che cosa ti fa paura della psicologia? A livello personale mi fa paura. Non lo so, forse io c'ho un amico, lo conosciamo tutti magari un po' così, che non va mai al medico e dico, ma perché non vai al medico, ma perché non vai al dottore, va a farti vedere questo dolore. No, no, perché poi non mi fanno più uscire. O poi dicono, no, poi scoprono qualcosa, no, è meglio... Meglio non sapere. Sì, forse è un po', forse è un po' quello. Avevo una ex fidanzata che andava al psicologo, che secondo me è un po' una lotteria però. Perché è andata da uno che nel mio avviso non... è un po' una lotteria. Beh, anche tra gli insegnanti d'inglese c'è quello più bravo, quindi insomma... Sì, è più prevedibile con gli insegnanti d'inglese perché la maggior parte è pacco, soprattutto in base a lingua inglese. Lo sai che sono pacco. Però no, I don't know. I think it's important. Penso che comunque non vedo l'ora sicuramente come te che si scioglie questo stigma perché un giorno arriverà dove uno va al psicologo, come uno va al dentista, come uno va al medico e sarà accettato. Certo, ci stiamo lavorando, diciamo. Io ci sto lavorando molto. Ma è giovane come scienza, no, è ancora giovane. Il cervello è... io seguo molto Sam Harris, il neuroscienziato, perché è un comunicatore favoloso. Bravissimo. Grande, no? Anche tu, comunque. No, no, no. Guarda che non è da poco. Il mio lavoro è sempre cercare di prendere una cosa difficile anche, magari. E lo digerisco io per te e te lo do semplice. Questa è una forma di intelligenza, secondo me. In Inghilterra mio padre lo chiamava to be socially flexible. Lui dice quando uno riesce a parlare con il contadino e può parlare con il re sempre sullo stesso livello. Quella non è l'intelligenza. A parlare in un certo modo, non in modo arrogante e comunicare e tu comunichi molto bene. Quindi questo è, forse, però è una cosa difficile imparare quella. Io penso che quello è un dono. È un dono anche un po' per dire, il mio caso è nato da una difficoltà che io avevo da prendere, che ho superato prima per me, poi ho detto se le capisco io le cose le posso spiegare anche agli altri. Bravo. di trasformare un po' il vincolo e risorsa. Ma a proposito della tua spinta divulgare, tu come mai hai iniziato, cioè com'è che ti è venuto in mente di insegnare l'inglese agli italiani? Allora, facevo cantanti tanti anni, è nata mia figlia, ho deciso di smettere di cantare perché volevo vederla e cantare volevo dire sempre girare e in realtà è l'unico lavoro che potevo fare. Essendo inglese non volevo lasciare l'Italia, la terra dei comunicatori più comunicativi al mondo. Quindi ho cominciato a insegnare inglese ma l'ho fatto un po' diventare mia, nel senso che, come si può dire, ho sviluppato il mio metodo per farlo, usando il divertimento, usando… Per me era un po' come il palco quando cantavo perché è un performance quando insegni, tu sei davanti a un pubblico, l'attenzione su di te… Ti emozioni quando insegni inglese? Quando avevi le aule ti emozionavi come stare sul palco? No, ero terrorizzato perché non sapevo insegnare all'inizio, come quasi tutti. Ora, allora, c'è una grande leggenda, un grande… In Italia vogliono tutti madrelingua, nonostante che i più grandi pacco spesso sono proprio madrelingua, infatti io sono un grande fan degli insegnanti italiani perché loro sanno la grammatica inglese, noi no, noi non impariamo la grammatica inglese a scuola, voi sì, quindi io sono… non sapevo la grammatica, ho cominciato a insegnare ma in realtà non insegnavo, raccontavo le storie e poi un giorno il studente ha detto… io ho scritto I heard a sound in forest e questo tipo Paolo Mantigani, non dimentichero mai, ha detto ma quello è un verbo regolare o irregolare? Tu non sapevi di cosa stesse parlando? No, però io nel vita precedente ero napolitano e ho sempre la risposta pronta e io ho detto ah mi è interessante che lei l'hai chiesto questo. Bravo, bella domanda, stai attento. No, ma è anche in coincidenza perché è proprio quello che facciamo la settimana prossima, però possiamo concentrare solo su questo… e poi andavo a casa a vedere cosa aveva detto e io mi arrangiavo, però poi ho detto no non posso essere fregato dei studenti, quindi ho imparato la grammatica inglese da una signora italiana. In base alla tua esperienza ci sono dei blocchi che gli italiani secondo te hanno… che ritornano nell'apprendimento della lingua? Assolutamente sì, cioè vabbè il metodo è proprio… allora la prima cosa che faccio è sciogliere questo blocco, è un blocco sì, però allora molto velocemente il grande problema è che in Italia prima di tutto cominciano troppo tardi… Ad ascoltare? A sentire l'inglese sì, molto tardi, troppo poco, però soprattutto gli insegnanti non sono aiutati, quindi hanno tanti vizi bruti, non sanno la maggior parte… ecco io ti ho detto l'insegnante italiano io sono grandi fan, se però si fanno aiutati sulla pronuncia, questo è importantissimo. Perché la pronuncia è così importante secondo te? Perché sennò dici una parola per un altro, non ho detto accento, attenzione perché tanti si confondono con l'accento e la pronuncia, l'accento italiano è bellissimo, non devi mai perderlo ed è anche ridicolo quando un italiano cerca di parlare con un inglese. È caratterizzante diciamo… È così bello l'accento italiano, perché perde l'accento? Cucchi è un casino in Inghilterra con l'accento italiano. Quindi l'accento va bene mantenere il proprio però la pronuncia è diversa. Io mi chiamo Gianni in Inghilterra. Hello, hello, non so che accento è questo. Però la pronuncia è diversa, non è l'accento. No, suoni, suoni. In Italia pronunciano i colori che è una cosa da bambini, una cosa basic, basic, spagliati. Black. Tecno black. Invece è black, giusto. Orange con lì. Non orange. Non orange, che francese. Sì, ma vedi, questi sono i brutti vizi che è uno dall'altro. Però se tu non sei aiutato, perché in Italia c'è questa fenomenale ignoranza di cosa vuol dire insegnare l'inglese. Cioè loro dicono ok, tu hai un diploma, vai a insegnare. Cosa vuol dire? Tu hai un diploma in inglese vuol dire che tu sai insegnare l'inglese? No, non vuol dire che sai insegnare. Quindi io cerco ora, aiuto e gli spiego cosa vuol dire insegnare. E la prima cosa che dico è che i primi dieci minuti parli solo italiano, non parlare dell'inglese, parli di calcio, parli di donne, parli di birra, parli di quello che vuoi. È molto importante fare un legame con il studente che si fida di te. E io incoraggio tantissimo gli errori, per esempio, perché se non fai errori cosa me ne faccio io con te. Sai cosa diceva Platone? Che l'apprendimento avviene per via erotica. Cioè che l'insegnante deve affascinare lo studente. E quindi quello che tu dici è creare una relazione in modo che possa esserci una fiducia dentro la quale anche apprendere, ascoltare. Hai detto erotica? Ho detto, si può dire? No, no, è interessante, ma che scuola hai fatto? È sempre una bella scusa questo, eh? Sì, sì, eh, dobbiamo… Come era Platone, mica sono io, eh, ce lo so. Ma magari lo userò. È bello questo. Eh, Luca mi ha detto che ci vuole un po' di erotica per imparare i freaky verbs. Esatto, questo può essere… Carino. No, però mi sembra che, insomma, quello che tu dici è… Sì, 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 esatto. Prima cosa questo. E tu quindi utilizzi gli argomenti che interessano, quindi in Italia il calcio, la cucina… Non importa di cosa parli. È importante costruire un'amicizia. Un'amicizia. Non funziona che io sono in piedi, è un'autorità che guardo giù a te. Sì. Tu che sei seduto zitto e io sono l'autorità con la lavagna. Io non ho mai lavorato così. Sono sempre stato in mezzo loro. E poi ho capito subito che bombardare i studenti con le informazioni che loro scrivono non serviva a niente. Sì. Quindi parlano loro. Infatti, eh, sono andato da, diciamo, insegnante a guida. Mi piace più guide, no? Sì. Che insegnante. Sì, 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 sì. Cioè io gli davo le armi per imparare e poi lo facevano loro. E poi tu hai anche una serie di tecniche interessanti. Io ascolto su Audible, ascolto i tuoi podcast, eccetera, eccetera. Hai proprio delle modalità di insegnare alcune pronunce che ti rimangono. Ah sì, simboli. Tipo il morente. Sì. Eh, 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 eh. Esatto. Per first. L. Esatto. S di serpente. S di serpente. S di serpente. S di mosca. S di serpente. S di serpente. S di serpente. S di serpente. che è come Z. S di serpente. S di serpente. S di serpente. Allora, io sento tutti... Gli italiani dicono piccoli in inglese dicono small con la mosca. S di serpente. S di serpente. Ok. Dormire dicono sleep. S di serpente. Io il nome dicono slow, con la mosca. E io sono slo, con i serpenti. quindi allora è molto semplice la fonetica il codice fonetica se tu metti per esempio il suono più importante che esiste in inglese che tu non puoi dire una frase senza si chiama schwa ora io lo chiamo fioralino perché i bambini quando fanno un po' la bocca di fioralino e questo è tutto ovviamente per ricordare fanno allora tu dici una banana sono tre se tu guarda il simbolo di schwa sono due cose così con un numero 6 quel simbolo fonetico in cervello di un italiano galeggia non vuol dire niente non si attacca se io faccio l'uomo morente e faccio il simbolo con le due croce e gli occhi quando lui vede il simbolo di un uomo morente non c'è neanche il pensare e io quando insegnavo questi simboli in realtà li ho inventato per i bambini per insegnare i suoni però vedevo che i genitori apprendevano anche loro maggiore ragione prima parlavi di bambini ci sono diversi genitori che ci leggono che ci ascoltano inglese e bambini istruzioni per l'uso dacci qualche suggerimento io ho due bimbi ad esempio una a tre l'altra a cinque anni cosa fare cosa non fare il più grande consiglio che posso dare ai genitori ed è enorme è questo se tu trasmette la tua negatività ai tuoi bambini dicendo l'inglese è come andare al dentista è doloroso ma è necessario devi farlo con questo inglese e le metti in questa pressione il bambino è già fregato capito? è un tema di mindset questo di approccio mentale proprio anche alla lingua se i bambini vedono che i genitori sono così basta la strada è già chiusa capito? grazie di tutto real life english come andava? real life english real life english sto migliorando dopo questa chiacchierata dateci un occhio sicuramente un strumento indispensabile per chi vuole avvicinarsi anche ad adulti possiamo dire all'inglese che si parla davvero grazie a tutti per averci ascoltato anche l'inglese questa volta ho fatto sia inglese sia american english british english and american english ah fantastico fantastico bene 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 grazie a tutti per averci ascoltato grazie man ciao